Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho intenzione di consigliarvi dei libri che secondo me si adattano molto bene alla stagione autunnale. Diciamo però che non saranno i consigli che si danno di solito appunto per questa stagione, che sono di solito libri comunque horror oppure comunque paranormali, che si adattano un po' al tema più che altro di Halloween e dell'inquietante almeno. C'è una punta di inquietante, però soprattutto vi consiglierò libri che hanno delle tematiche un pochino lugubri, un pochino cupe, pesanti, che vanno a scavare nella profondità della natura umana, del torbido che c'è dentro di noi, che c'è nel mondo. Insomma, tematiche poco piacevoli e molto pesanti, molto cupe, molto aride e difficili. Così, ma pieno di cose difficili da accettare, diciamo così, che sono sinceramente libri che tendenzialmente a me piacciono molto e quindi questa è più che altro una scusa per consigliarveli. Però, insomma, secondo me davvero si adattano bene al mood autunnale. Se avete visto il mio video di aggiornamenti di letture più TBR di poco fa, saprete che anche nella mia TBR comunque ci sono libri di quel tipo, quindi sì, secondo me si adattano molto bene. In ogni caso, iniziamo con un libro che in realtà non avevo pensato per questo video, ma l'ho appena finito di leggere e secondo me è perfetto per quello che vi ho appena detto, perché sto parlando di Nella quiete del tempo di Olga Tokarciuk, o Tokarciuk, non so come si dica. Allora, di questo vi parlerò a breve in un altro video, perché ce n'è bisogno. Però posso dirvi che è, diciamo, tutto quello che vi ho detto finora alla massima potenza, perché è ambientato in un paesino della Polonia che è sostanzialmente sperduto, è molto isolato, diciamo così, però all'interno del romanzo praticamente questo paesino viene considerato il centro dell'universo, viene considerato, anzi, l'unica, proprio l'intero universo sostanzialmente, perché Olga Tokarciuk racconta tutto dalla prospettiva praticamente di un osservatore esterno che possa essere, cioè che può essere Dio, può essere qualsiasi entità esterna e diciamo superiore all'essere umano e ci vuole mostrare attraverso le storie di vari personaggi di questo paesino, appunto, che compongono il mosaico di questo paesino, ci vuole mostrare praticamente la mutevolezza, l'essere effimera della vita umana sostanzialmente, e quanto siano alla fine irrisorie e di poco conto tutte le vicissitudini che si trovano al suo interno. E, vabbè, mi è piaciuto molto, ne parleremo appunto meglio in altri contesti, però ve lo voglio consigliare perché ha proprio il clima adatto, perché è un continuo proprio osservare le cose che cadono a pezzi, che si distruggono, osservare la materia che si distrugge, no? La materia che si trasforma e quindi si distrugge per poi generare altro, no? Tra l'altro nei libri di Olga Tocarcio, che in generale c'è molto il contatto anche con il resto dell'universo, quindi il regno animale, il regno delle piante, quindi un po' anche quest'idea che noi in realtà non siamo al centro del mondo come crediamo di essere, siamo una piccola parte di una cosa molto più grande, e nulla, non lo so, a me è piaciuto e trovo che sia molto adatto a questo periodo, molto adatto a questo periodo. Poi allora, per restare in tema di paesini sperduti nel nulla, ho altri due libri di questo tipo, uno è Mentre Morivo, che ovviamente ho appena letto, anche questo ve ne ho parlato poco fa, quindi non mi dilungherò, però anche qui le tematiche sono abbastanza simili in realtà a quelle di Nella Quetta del Tempo, nel senso che poi il libro in sé è molto diverso, cioè la scrittura è molto diversa, l'altro è scritto un po' a... così come se fossero delle parabole, le storie che racconta, diciamo che ogni personaggio è un po' architettato per rappresentare un archetipo, per raccontare comunque qualcosa appunto della natura umana in generale, e comunque c'è sempre questo piglio un po' biblico, quasi un po' appunto che racconta le cose dall'alto e che tende forse a spiegare quasi troppo, ad essere quasi troppo didascalico secondo me, mentre questo è proprio il contrario, nel senso che qui vediamo le prospettive dei diversi personaggi, ma dall'interno, e questi personaggi non ci dicono nulla, cioè ci dicono molto poco, quindi siamo noi a dover mettere insieme i pezzi, a dover intuire le cose, quindi questo è proprio, da questo punto di vista, il contrario, però le tematiche poi alla fine sono abbastanza simili, perché anche qui si parla di morte, anche qui si parla di quanto sia, diciamo, ridicola la vita umana, quanto siano ridicoli gli sforzi degli uomini di portare avanti chissà quali imprese, quando poi alla fine tutto si risolve in nulla, tutto si risolve in morte, distruzione e fugacità, appunto, sempre, e l'ambientazione anche qui, diciamo, che aiuta, secondo me, cioè che ha molto a che fare con il periodo autunnale, anche se può avere a che fare anche col periodo estivo, perché si parla di zone molto aride, molto caldo, molta polvere, però, secondo me, anche per l'autunno è perfetto, perché c'è questa, appunto, atmosfera molto desolata, isolata da tutto e da tutti, con poche persone, magari anche un po' ostili tra di loro, insomma, secondo me si adatta molto bene a questo periodo. Poi veniamo ad un libro che, invece, non vi ho ancora consigliato qui sul canale, che è Satantango, su questo libro ci sarebbe tantissimo da dire, ma questo non è il video adatto per parlare nel dettaglio dei libri, però, allora, anche qui siamo, appunto, in un paesino, qua siamo praticamente in un paesino ungherese, subito dopo il crollo del comunismo e quindi anche dei regimi affini, no? dell'Europa dell'Est, e quindi in questo paesino che prima era, diciamo, gestito dall'alto e quindi in cui le persone non hanno mai avuto particolare spirito di iniziativa di... Ma, vabbè, questo è un eufemismo, perché proprio in realtà si tratta di persone che sono estremamente immobili, estremamente, non so, immobilizzate da qualcosa, è come se aspettassero qualcosa, aspettassero un intervento divino o satanico, non si sa, comunque basta che arrivi qualcuno a smuovere la situazione, a dire a loro che cosa fare, perché, appunto, di per sé, loro sono molto fermi e il modo in cui Krasnaorkai ti fa percepire questa cosa è incredibile, perché anche qui si... In questo è più simile... Io l'ho trovato in realtà abbastanza simile a Mentre Morivo di Falkner e vorrei approfondire questa somiglianza. Tra l'altro ho letto in un'intervista che lui ha detto che ci sta, cioè nel senso ha ammesso che potrebbe aver entrato ispirazione da lì, da Falkner in generale, non da Mentre Morivo, però sì, io ho letto solo quello, quindi... Comunque, in ogni caso, anche qui, ogni capitolo prende la prospettiva di un personaggio diverso e la scrittura di Krasnaorkai è bellissima, è una delle più belle che io abbia letto ultimamente e o in generale anche, cioè proprio mi è piaciuta tantissimo e sono tutti personaggi particolari con una visione del mondo appunto molto particolare e le tematiche anche qui sono molto cupe, l'atmosfera è molto cupa, c'è una desolazione veramente totale. Questo a tratti può essere anche considerato un po' inquietante, ma anche mentre morivo, secondo me. Quindi siamo proprio nelle atmosfere giuste. Poi, appunto, approfondirò meglio, non preoccupate perché ci vorrei fare 40 video su questo libro, ma comunque intanto ve lo consiglio. Poi, allora, in realtà anche qui rimaniamo sulla stessa tematica, praticamente, perché il prossimo libro che voglio consigliare è Perturbamento di Thomas Bernard. Allora, io di Bernard ho letto Il soccombente, A colpi d'ascia, Perturbamento e poi Camminare, che è un libricino un po' secondario, però gli altri tre mi sono piaciuti tutti tantissimo. Il mio preferito credo sia Il soccombente, però anche questo, diciamo, se la gioca, e però ho scelto di consigliarvi questo un po' perché forse è considerato più questo il suo capolavoro rispetto al suo commento, ma anche perché l'ambientazione, secondo me, è... l'atmosfera, in generale, secondo me, è ancora più autunnale, ancora più giusta, perché i libri di Bernard sono sempre ambientati o a Vienna, che però lui odia, quindi comunque anche lì c'è tutto... senti tutto il disprezzo di Bernard e dei personaggi di Bernard nei confronti di quella città, oppure in questo caso in realtà è ambientato in un paesino austriaco della campagna, per non dire nei boschi, probabilmente anche, e quindi diciamo che a livello di atmosfera secondo me è ancora più adatto. Poi, per quel che riguarda le tematiche, Bernard è forse l'autore più... cupo... no, più che cupo, proprio sprezzante, cioè si vede che odia tutto, tutti, si lamenta di tutto e tutti, cioè è proprio un'atmosfera poco allegra, veramente poco, poco allegra. Qui è ancora più cupo, secondo me è ancora più disperato il tono, appunto, e si sfocia addirittura, diciamo, nella pazzia, secondo me, cioè qui il confine tra sanità mentale e follia non è così ben delineato, mentre negli altri, secondo me, è più una questione di... appunto la mente la continua, sprezzo di tutto e di tutti, però con una certa comunque lucidità e razionalità. Qui forse quella lucidità e razionalità viene un pochino persa, però ci sono dei ragionamenti comunque molto interessanti e soprattutto degli sproloqui, delle riflessioni che occupano pagine e pagine e che sono fondamentalmente dei soliloqui che appunto non si sa quanto siano razionali e quanto invece siano folli, però è quello il bello e ti attirano proprio per quello, fondamentalmente. E sì, questo è quello che ho da dirvi, poi anche su Bernard ci potrei fare mille video, ma vabbè, vi sto praticamente consigliando tutti i miei libri preferiti o tutti i miei autori preferiti in questo video. Vabbè, è andata così. Infatti, un altro libro che voglio consigliare e che mi è piaciuto molto è Dissipazio HG di Guido Morselli. Questo è in tutto e per tutto un soliloquio, nel senso che qui praticamente seguiamo i pensieri di un uomo che si è ritrovato da solo nel mondo, nel senso proprio che tutti gli altri sono scomparsi e non si sa perché e per come. Sembra l'inizio di un libro di fantascienza ma non lo è. In questo caso non lo è. È veramente un soliloquio, una riflessione in solitaria su tante tematiche. Ovviamente, tra l'altro, per appunto farvi capire l'atmosfera cupa, oltre al fatto di ritrovarsi da solo nel mondo, si ritrova da solo nel mondo esattamente il giorno dopo aver provato a suicidarsi. quindi ancora più paradossale no, perché lui voleva togliersi dal mondo invece il mondo ha tolto tutti gli altri e ha lasciato soltanto lui e quindi inizia ad interrogarsi su varie cose che si possono resumere come il senso della vita stessa nel senso che si chiede se ha senso continuare a resistere, ha senso continuare a pensare, a scrivere, a fare cose se non hai nessuno a cui rivolgerle insomma diventa ovviamente un ragionamento che in realtà mantiene sempre la lucidità mi è piaciuta molto questa cosa è un po' appunto questo è un po' diverso da quello di perturbamento che è più al confine con la pazzia qui siamo proprio invece nel regno della lucidità è quasi cartesiano come libro cioè io ci ho rivisto molto di cartesi del penso dunque sono eccetera delle meditazioni cartesiane perché questa è una meditazione cartesiana praticamente fatta però in uno scenario che di per sé è un po' appunto apocalittico appunto comunque irreale però quello è soltanto il pretesto da cui parte poi tutta una riflessione secondo me molto interessante poi andiamo invece più su diciamo entriamo più nel torbido della natura umana quindi proprio a livello mi verrebbe da dire antropologico anche se non siamo proprio lì però comunque questo è il senso con due libri il primo è Il teatro di Sabbat di Philip Roth altro dei miei autori preferiti di sempre allora questo libro è bellissimo perché esplora le tematiche più appunto diciamo torbide più difficili da accettare da comprendere dell'essere umano tra cui anche il sesso e in un certo senso la depravazione anche sessuale o comunque lo schifo della natura umana mi verrebbe da dire perché Philip Roth sappiamo è un autore che non si tira mai indietro di fronte appunto alle tematiche più scomode alle realtà più scomode alle caratteristiche peggiori dell'essere umano cioè lui cerca di tirarle fuori tutte nei suoi libri e secondo me questo è uno di quelli in cui ci riesce meglio in cui riesce a scavare più a fondo perché seguiamo un personaggio Mickey Sabbat che è molto sgradevole però il tempo stesso è molto umano e Philip Roth ce lo fa capire molto bene ci fa empatizzare con lui o comunque ce lo fa capire comprendere pur non magari condividendo alcune delle sue scelte anche dei suoi pensieri un po' appunto particolari però l'umanità di questo personaggio traspare tantissimo e questo diciamo contrasto secondo me è bellissimo Philip Roth lo riesce a creare in modo fantastico e forse è il mio preferito di Philip Roth per ora poi un libro con tematiche abbastanza simili secondo me è Estensione del dominio della lotta del dominio della lotta non so perché dico sempre e ma non c'è una e Estensione del dominio della lotta di Michelle Welbeck autore che invece incredibilmente non rientra tra i miei preferiti per nulla perché ho letto solo questo e Piattaforma che non mi è piaciuto questo mi è piaciuto tantissimo ma Piattaforma no quindi devo ancora capire qual è la mia opinione di Welbeck come autore leggerò altro sicuramente per farmi un'idea migliore però sì in ogni caso questo è bellissimo è anche molto breve è il suo esordio e tratta sostanzialmente di queste stesse tematiche cioè un po' della parte più animalesca dell'uomo o comunque più legata a delle leggi di sopravvivenza del più forte sostanzialmente come questo è un po' il senso del titolo nel senso che appunto si parla del dominio della lotta inteso come di quanto la natura umana sia aggressiva nei confronti gli uni degli altri di quanto sia sgradevole di quanto sia cattiva anche proprio e lo fa però in un modo molto particolare qui la scrittura di Welbeck mi è piaciuta tanto anche come ha deciso di raccontare certe cose di trasmettere certe idee mi è piaciuto veramente tanto il personaggio il protagonista apatico qui è comunque molto interessante molto piacevole da leggere mentre quello di piattaforma mi è risultato solo noioso invece qui davvero è un'apatia comunque giusta costruita bene e e sì questo mi è piaciuto tantissimo spero di trovare altri libri di Welbeck così e se ne conoscete ditemelo prego già qualcuno mi aveva consigliato un libro di Welbeck nei commenti e me lo sono segnato ora non me lo ricordo quindi vedremo vedrò però comunque questo assolutamente leggetelo a prescindere cioè anche se magari avete letto altro di Welbeck che non vi è piaciuto questo a prescindere leggetelo vi prego anche perché secondo me si trova molto spesso all'usato a poco prezzo poi ultimi due consigli un pochino diversi allora in realtà uno non è tanto diverso perché è sempre su tematiche così un po' cupe anzi qui molto di più qui siamo più sul filone dell'inquietante come vi dicevo prima che che non sarebbe stato appunto il filo conduttore ma ci poteva essere in qualche modo ecco qui c'è perché sto parlando della strada di Cormac McCarthy un libro che praticamente si regge interamente sulla suggestione sull'atmosfera appunto non tanto di paura ma più di appunto inquietudine e anche ansia perché non capisci cosa sta succedendo però hai questa veramente sensazione di ansia per tutto il libro comunque di desolazione anche qui totale perché siamo in una scena anche qui post apocalittica in cui tutto è devastato e sostanzialmente un uomo e suo figlio cercano di sopravvivere e non sai cosa succederà non sai se effettivamente si sopravvivranno o meno però è tutto anche qui nel modo in cui è narrata questa cosa perché McCarthy scrive in un modo qui scrive in un modo molto secco molto scarno dicendoti davvero solo il necessario lo stretto necessario e quindi tu ti chiedi tante cose mentre leggi il libro e provi sensazioni molto sgradevoli ma molto appunto forti ed è quello il punto del libro io l'ho letto un botto di anni fa in realtà mi era piaciuto parecchio perché appunto questa sensazione comunque te la trasmette ed è molto forte devo dire non il mio libro preferito comunque cioè tra tutti questi è quello che sicuramente mi piace un po' meno però ve lo volevo consigliare perché si adatta perfettamente quindi ci può stare ecco se non l'avete ancora letto ma penso l'abbiano letto in tantissimi questo ma mai come l'ultimo libro che vi voglio consigliare che credo che l'abbia letto veramente chiunque da quando esiste TikTok e da quando esiste il trend del Dark Academia che è Dio di Illusioni io non conosco molto il sottogenere o come lo volete chiamare del Dark Academia perché sostanzialmente non mi interessa molto però tra tutti i libri questo credo sia l'unico che ho letto ma è anche molto valido cioè io ve lo consiglio perché secondo me Donna Tartt scrive molto bene questo libro è coinvolgente sì ha un'atmosfera molto autunnale molto di conforto ma anche di turbamento è un po' un mix perché è ambientato in un college quindi comunque hai quelle vibe appunto di Dark Academia che ti inquietano ma ti danno anche conforto allo stesso tempo perché sei in un ambiente comunque bello interessante stimolante familiare anche però poi succedono cose strane ovviamente non è un thriller se avete idea che sia un thriller non leggetelo anche se viene venduto così a volte ma assolutamente no secondo me Donna Tartt scrive molto bene delinea molto bene i personaggi le dinamiche tra loro poi sì non è questo non è un libro che leggi per come è scritto ma lo leggi per per come è diciamo come riesci a coinvolgerti sostanzialmente io di libri più scorrevoli più coinvolgenti di questo credo di non averne letti perché questo veramente vi farà incollare totalmente alle pagine e quindi comunque c'è anche quello sì però secondo me è anche scritto bene altrimenti non ve lo consiglierei e vabbè perfetto per questo periodo però ripeto questo veramente credo che tutti lo conosciate quindi non non ne voglio parlare più di così bene questi erano i miei consigli io spero che vi abbiano interessato anche perché sono libri bellissimi non so se vi è arrivato il messaggio ma sono libri bellissimi di cui riparleremo perché appunto sono tra i miei libri e autori preferiti sostanzialmente quindi però sì direi che questo è tutto per oggi noi ci vediamo nel prossimo video iscrivetevi se questo video vi è piaciuto e consigliatemi anche voi i vostri libri per l'autunno ditemi che cosa avete intenzione di leggere insomma fatemi sapere nei commenti e vi mando un bacio alla prossima ciao ciao